Questo è un tutorial sull'angolo dell'engagement in Airsoft AEG. L'angolo dell'engagement è l'angolo in cui i primi strumenti del settore e del pistone si incontrano l'altro. Normalmente, in configurazioni di stock, l'angolo dell'engagement è abbastanza offre. Il primo strumento del settore non si incontra completamente il pistone. Questo potrebbe causare la distruttura del pistone e la riliegabilità della box. Inoltre, vogliamo ottenere un'engagement di sicurezza e completa di questi componenti, aumentando l'ingagement di superficie del pistone in questo ciclo. Facendo così è molto facile, solo bisogna imparare in più la posizione del pistone. L'angolo dell'engagement è ottimale che il primo strumento del settore è quasi a 90 gradi. Inoltre, possiamo aggiungere quale spazio abbiamo bisogno di aggiungere per ottenere questo risultato. Poi possiamo aggiungere un spazio sul basso del cilindro, o possiamo aggiungere un spazio tra il pistone e il pistone. Mi piace fare un po' e vi mostrerò perché. Nel cilindro riliegabilità puoi applicare diversi tessi di rubri o sorbotane materiali, dipendendo da quale spazio è la scuola che bisogna riliegare. Puoi trovare questi spaziosi nel vostro store di hardware locali, oppure puoi rimuovere il basso del basso dal cilindro rio. Normalmente un spazio del basso del basso del basso di 2 mm fa fa la prima parte del lavoro. Poi inseriamo il spazio dentro del cilindro, con il cilindro rio installato. Assolutamente che il spazio sia ben posizionato e inserisci il pistone. Ora inserisci il spazio dentro del pistone, il motivo è che il rubro probabilmente si compresserà quando la pressione è applicata. Vogliamo riliegare la stessa cosa alla A.O.E. come quando il porto è fermato. L'ingeggimento è sicuramente migliore, ma c'è ancora tempo per miglioramento. Aggiungeremo un spazio più piccolo tra il pistone e il capo di pistone. In questo caso un metallo di metallo di 1.3 mm. Il pump di metallo 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 di metallo. Aggiungeremo il spazio una volta e roi cibo il A.O.E. Inizialmente abbiamo il proprio angolo di intervento. Il Sector tutt'ultimo contrasta con i pistoni ricevendo tutt'ultimo. Ma guardate questo! Con correttamente l'AOE, il ciclo del Sector Gears è ora incontrato da un pistone di tutt'ultimo. Normalmente dovresti rinforzare un po' per rinforzare il ciclo. Questo è un pistone di high speed ed ha già un po' meno tutt'ultimo, quindi dovremo rinforzare solo l'altra parte. Mi piace di farlo con un strumento di dremel, più rapido e più di più di un filo. Rinforzare le pistone di tutt'ultimo per rinforzare il ciclo. Ora è il momento di assicurare il nostro lavoro. Con superglue rinforzare il spazio rubro sul cilindro rosso, così che non si rinforzano mentre si rinforzano. Rinforzare il spazio rubro sul cilindro di tutt'ultimo per rinforzare l'intervento di tutt'ultimo per rinforzare l'intervento di tutt'ultimo. Rinforzare il tritone di tutt'ultimo per rinforzare l'intervento di tutt'ultimo per rinforzare. Rinforzare l'intervento di correzione di A.O.I, soprattutto con scelte di scelte rapido. Rinforzare che con meno il filo di cilindro, il fps diminuisce un po' ma in mia opinion, questo è sicuramente una delle procedure di fare in ogni gearbox. Spero che avete piaciuto questo tutorial. Seguimi su Facebook e Instagram per contenuti esclusivi. Vi vediamo la prossima volta e restate sicuro qui.